Buonasera a tutti, sono la Feltanelli di Napoli di Piazza dei Martiri, non si può, non posso parlare più ad alta voce perché giù c'è un evento. Sono qui e ogni volta che sono qui mi emoziono tantissimo perché si trova di fronte alle registrazioni di tanti maestri. Per esempio mi salta all'occhio il violoncellista Yoyoma. Poi siamo tanti, c'è l'imbarazzo della scelta. Eccola, Marta Argeric, Artur Rubinstein, Aldo Ciccolini, Horowitz. E' bellissimo perché quando si legge il nome Vivaldi, Verdi, Wagner, Schumann del Bussino, Puccini e si percepisce insomma la potenza di questi. Ecco c'è il maestro Baglini che ho anche intervistato, ho avuto l'onore di intervistarlo. Ecco qui Puccini, Socolo, Antonio Pappano che adoro. Visto. Abbato. Poi qui è una sezione chiamata Imperdibili della classica. E c'è Chagli, Riccardo Monti, Tutte le novità. Grazie. 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 E andate se potete. Sofine. Ti adoro.